La Seconda Guerra Mondiale fu innescata da una serie di eventi complessi e interconnessi. Ecco alcune delle principali cause. Trattato di Versailles, alla fine della Prima Guerra Mondiale, il Trattato di Versailles impose pesanti riparazioni e restrizioni alla Germania. Questo portò a un forte risentimento e instabilità nel paese. Scesa del nazismo, negli anni 30, Adolf Hitler e il suo partito nazista presero il potere in Germania. La loro ideologia razzista, militarista e imperialista contribuì alla tensione internazionale. Espansionismo delle potenze dell'asse. Germania, Italia e Giappone cercarono di espandersi territorialmente. L'invasione della Cina da parte del Giappone nel 1937 e l'annessione dell'Austria da parte della Germania nel 1938 furono segnali di ciò. Politica di appeasement, le nazioni occidentali cercarono di evitare un altro conflitto concedendo concessioni alla Germania e all'Italia. Tuttavia, ciò non fermò l'espansionismo. Invasione della Polonia, nel settembre 1939, la Germania invase la Polonia, portando alla dichiarazione di guerra da parte del Regno Unito e della Francia. Questo fu l'inizio ufficiale della Seconda Guerra Mondiale. Alleanze militari, gli accordi tra le nazioni, come l'asse e gli alleati, portarono a una rapida escalation del conflitto. Aggressione giapponese, il Giappone cercò di espandersi in Asia, portando a conflitti con la Cina e gli Stati Uniti enne breve. Una combinazione di nazionalismo, rivalità territoriali, politiche fallimentari e tensioni internazionali portò alla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. Ecco alcune delle principali battaglie della Seconda Guerra Mondiale. Battaglia dell'Atlantico 3 settembre 1939-24 maggio 194. Combattuta nell'Oceano Atlantico, coinvolse le forze navali degli alleati contro i sottomarini tedeschi. Gli alleati vinsero. Battaglia di Gran Bretagna 10 luglio 31 ottobre 1940. L'Inghilterra respinse gli attacchi aerei tedeschi durante la battaglia aerea. Gli alleati vinsero anche questa battaglia. Operazione Barbarossa 22 giugno 1941-7 gennaio 1942. L'invasione tedesca dell'Unione Sovietica. Nonostante le iniziali vittorie tedesche, l'Armata Rossa resistette e alla fine respinse l'attacco. Assedio di Leningrado 8 settembre 1941-27 gennaio 1944. La città russa di Leningrado fu assediata dalle forze tedesche e finlandesi. Gli alleati riuscirono a mantenere la città, ma a un costo enorme attacco di Pearl Harbor 7 dicembre 1941. L'attacco a sorpresa del Giappone contro la base navale americana Pearl Harbor, nelle Hawaii. Questo evento portò gli Stati Uniti a entrare ufficialmente nella guerra. Battaglia di Midway 3-6 giugno 1942. Importante battaglia navale tra gli Stati Uniti e il Giappone nell'Oceano Pacifico. Gli alleati inflissero pesanti perdite alla flotta giapponese Battaglia di El Alamein 1-27 luglio 1942, combattute in Egitto tra le forze britanniche e quelle tedesche. Fu una vittoria cruciale per gli alleati nel teatro africano Campagna di Guadalcanal 7 agosto 1942-9 febbraio 1943. Gli alleati combatterono contro i giapponesi nelle isole Salomone. La vittoria alleata stabilì una base strategica nel Pacifico Battaglia di Milnebey 25 agosto 5-7 settembre 1942, combattute in Papua Nuova Guinea. Gli alleati respinsero l'invasione giapponese Seconda Battaglia di El Alamein 23 ottobre 5 novembre 11-942. Un'altra vittoria cruciale degli alleati in Egitto contro le forze tedesche e queste sono solo alcune delle molte battaglie che hanno segnato la storia della Seconda Guerra Mondiale e le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale furono profonde e durature, distruzione e perdite umane. La guerra causò distruzioni su vasta scala in Europa, Asia e altre parti del mondo. Milioni di persone persero la vita, sia militari che civili. Divisione dell'Europa L'Europa fu divisa in due blocchi, l'Est comunista guidato dall'Unione Sovietica e l'Ovest democratico guidato dagli Stati Uniti. Questo portò alla Guerra Fredda nascita delle Nazioni Unite dopo la guerra. Le nazioni si unirono per prevenire futuri conflitti. Le Nazioni Unite furono create per promuovere la pace e la cooperazione internazionale decolonizzazione. La guerra accelerò la fine dell'imperialismo europeo. Molte coloni ottennero l'indipendenza. Guerra Fredda La rivalità tra Stati Uniti e Unione Sovietica portò a una corsa agli armamenti, spionaggio e conflitti indiretti in tutto il mondo. Ricostruzione economica Gli sforzi di ricostruzione portarono a una crescita economica negli anni successivi alla guerra. Olocausto e crimini di guerra Il mondo prese coscienza degli orrori dell'Olocausto e dei crimini di guerra nazisti. I processi di Norimberga giudicarono i responsabili. Cambiamenti geopolitici L'ascesa di nuove superpotenze e la fine dell'egemonia europea cambiarono l'equilibrio di potere globale. Avanzamenti tecnologici La guerra accelerò lo sviluppo di tecnologie come l'aviazione, la medicina e l'energia nucleare. Memoria collettiva La seconda guerra mondiale ha lasciato un'impronta indelebile nella memoria collettiva, con monumenti, musei e commemorazioni che ricordano le vittime e l'importanza di preservare la pace. Questi sono solo alcuni degli impatti della seconda guerra mondiale, ma la sua influenza si estende ancora oggi.